Cardio HIIT per principianti. 14 minuti di lavoro con brevi fasi di cardio ad alta intensità. Vamos! Ok, iniziamo. Circonduzione delle braccia in avanti. Iniziamo questo super workout, ma prima facciamo un super riscaldamento. Mi raccomando il riscaldamento, non lo saltare mai, è fondamentale. 5, 4, 3, 2, 1, circonduzione dietro, movimento ampio. Come dicevo, sempre riscaldamento prima dell'allenamento e defaticamento post workout, fondamentale per migliorare le performance e non farsi male. Vamos! 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Step touch, vai. Iniziamo a muovere anche tutta la parte bassa, scaldiamo bene tutto il corpo prima di iniziare l'allenamento. Spostamento laterale, destra e sinistra, destra e sinistra. Ci prepariamo, spinta su gamba destra. 3, 2, 1, vai. Spinta gamba destra, piccola spinta. Respiro. Scaldiamo bene gambe, glutei, vai. Mezzo squat e la spinta, vai. 3, 2, 1, spinta su gamba sinistra, cambio. Vai. Dall'altra parte, testa dritta, salgo e spinta, salgo e spinta. Respiro. Ancora. Qualche secondo. 3, 2, 1, torsione, gomito ginocchio alternato, vai. Destra e sinistra. Vai con la torsione. Tocco gomito ginocchio. Pam, pam, pam. Vamos! Respiro. 3, 2, 1, skip alto più sollevamento delle braccia. Vai. Salgo con le gambe e salgo con il sollevamento delle braccia. Attiviamo spalle e gambe. Vai. Respiro. 3, 2, 1, corsetta lenta sul posto. Respiro. Naso, bocca. Naso, bocca. Sempre respirazione. Ossigeniamo il nostro corpo. Esercizio successivo. Calciata saltellata. 3, 2, 1, vai. Calciata saltellata. Respirazione. Tallone al gluteo. Vai. Vai. Respirazione. Lavoriamo sulle braccia. Ancora. 3, 2, 1, camminata laterale su mezzo squat. Vai. Mezzo squat e camminata laterale. Mezzo squat e camminata laterale. Vai. Respiro. Vai. 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 3, 2, 1. Calciata e step touch. Calciata e step touch. Vai. Vai. Separo bene i due movimenti. Con una gamba step touch. Con l'altra gamba calciata. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Cambio. V-step. Apro e chiudo. Vai. Pam, 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 pam. Respira. Respiro. Mantengo il ritmo. Vai. 3, 2, 1. Jumping jack e iniziamo il workout. Vamos. Pam, pam, pam. Salto sull'avampiede. Movimento ampio. Mantieni il ritmo e respira. Vai. 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 Ancora. Ancora. Resisto. Fino alla fine. Non mi fermo. Pam, 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 pam. 3, 2, 1. Corsetta lenta sul posto. Approfitto per respirare. Inspiro. Ed espiro. Sempre espirazione. Ci prepariamo al salto sforbiciato. Tra 3, 2, 1. Salto sforbiciato. Vai. Respiro. Lavoro su. Gambe e braccia. Vai. 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 Sforbiciato. Ancora. Fino alla fine. Vai. Testa dritta. Respiro. Ancora qualche secondo. Non mi fermo. 3, 2, 1. Allora. Rallento. Corsetta lenta. Approfitto per respirare. Attenzione al prossimo esercizio. Due pugni alti. Due gomito ginocchio. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Pam, 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 pam. Vai. Sincronizza bene il movimento. Gomito ginocchio. Pugni in alto. Pam, pam. Ancora. Pam, pam. Respiro. Coordino il movimento. Vai. Pam, 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 pam. 3, 2, 1. Corsetta lenta sul posto. Respiro. Ci prepariamo per due pugni alti e due gomito ginocchio. Dall'altra parte. 5 secondi. 3, 2, 1. Vai. Pam, 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 pam. Vai. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Vai. Pam, pam. Ginocchio, ginocchio. Pugno, pugno. Ginocchio, ginocchio. Pugno, pugno. Vamos. Respiro. Coordino bene il movimento. Ancora. 3, 2, 1. Corsetta lenta sul posto. Respiro. Sempre respirazione. Lavoriamo su bruciare le calorie e anche sulla coordinazione dei movimenti e la reattività. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiriamo. Abbiamo l'esercizio successivo. Jumping jack. 3, 2, 1. Jumping jack. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. Vai. Vai. Respirazione. Ancora 10 secondi. Vai. Vai. 3, 2, 1. Corsetta lenta. Corsetta lenta. Rallento. Senza fermarmi. Respiro. Naso. Bocca. Naso. Bocca. Ci prepariamo. Salto sforbiciato. 3, 2, 1. Vai. Salto sforbiciato. Lavoro sulle braccia. Testa dritta. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Mantengo il ritmo. Vai. Su. Sincronizzo movimento. Ancora 3, 2, 1. Corsetta lenta. Respiriamo. Ci prepariamo al prossimo esercizio. due pugni alti e due gomiti ginocchio. Respiro. Respiro ancora. 3, 2, 1. Mezzo squat. Vai. Pam. 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 Respiro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ancora. Pam. Pam. Ancora. Pam. 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 3, 2, 1. Corsetta lenta sul posto. Rimaniamo sempre in movimento e ci prepariamo per l'esercizio successivo che è sempre due pugni alti e due gomiti ginocchio dall'altra parte. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Pam. 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 Ancora. Pam. Pam. Vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Vai. 1, 2, 3, 4. Vai. 1, 2, 3, 2, 1. Corsetta lenta. Approfitto per respirare. Rimango sempre in movimento. Non mi fermo. Naso. Inspiro. Bocca. Bocca. Espiro. Naso. Bocca. 5, 4, 3, 2, 1. Rallento. Abbiamo il recupero. Rimango sempre in movimento. E cambiamo in step touch. Vai. Step touch. Spostamento a destra e a sinistra. Non ti fermare. Respira. Respiro. Ci prepariamo per il prossimo esercizio. 2, 1. Vai. Glutei. Salgo con le caviglie e glutei. Respiro. Rallento piano piano. Ci prepariamo per lo stretching. Ed iniziamo con la respirazione. 3, 2, 1. Mi fermo. Allargo le gambe. Inspiro col naso. Blocco. Budu fuori con la bocca. Vai. Inspiro col naso. Espiro con la bocca. Ancora. 3, 2, 1. Mobilizzazione della colonna. Vai. In arco e in curvo. Vai. Respiro. Controllo il movimento. In arco e in curvo. Ancora. 10 secondi. Vai. Vai. 3, 2, 1. Allungamento laterale. Scendiamo lateralmente da una parte. Allunghiamo la gamba. Punta su. E mantengo la posizione di stretching senza forzare. Respiro. 3, 2, 1. Cambio lato. Mi aiuto con le mani. Vado in posizione. Piano piano scendo. Punta su. E mantengo la posizione. Respiro. Esercizio successivo. Stretching gamba sinistra da in piedi. 3, 2, 1. Salgo. Stretching gamba sinistra. Colo del piede. Mantengo l'equilibrio. Allargo il braccio che mi aiuta a mantenere la mia posizione. Ginocchia vicina e respiro. 3, 2, 1. Lascio piano. Sciolgo. E vado con lo stretching sulla destra. Stesso esercizio. Controllo. Respiro. E mantengo la posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Divaricata frontale. Allargo le gambe. Scendo piano frontalmente. Dove arrivo. Mantengo la posizione. Senza forzare. Dove arrivo. E respiro. Allunghiamo bene. Mi raccomando. Non saltare mai il defaticamento. Importantissimo. Ancora qualche secondo. Respira. 3, 2, 1. Risalgo piano piano. Ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Vamos. Ciao. Ciao.